Buonasera, allontano un po' le luci, aspettiamo che arrivino, buonasera, io finisco di ritagliare una cosa, buonasera, ciao Barbara, ben arrivata, sei la prima, eccole, Mirella, Giuliana, Cristina, buonasera a tutti Erika, come state? Ciao a tutti, ciao a tutti, faccio vedere una cosa, video spero di domani, video spero di domani, perché? Buonasera, ho le mani tutte sporche, buonasera, buonasera, finalmente pioggia, qua veramente fa pioggia da un bel po' da quando è arrivata la primavera, ciao, ciao a tutti, aspettate, spengo un po' di luci, devo mettermi un po' più al buio, sono sovraesposta, devo spegnere, sì, abbassa quella, spengo questa, no, troppo al buio, sì, abbassa quella grande, un attimo ragazzi, oh, perfetto, avevo le luci del set di arte per te, uova di polistirolo, no, 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 gusci, gusci veri, uova vere, non di polistirolo, vere, vere, uova uscita dal sedere della gallina, uova di gallina, ciao a tutti, come state? No, va bene, non ho detto culo, dai, buonasera, vorrei partecipare al corso quando sarebbe possibile iscrizione, le iscrizioni ricominciano a settembre dell'anno prossimo, ma io ne comincio a parlare ad agosto, quindi stai con noi e sicuramente saprai quando proporti, ciao, ciao a tutti, come state? guardate, io sto ritagliando alluminio, grazie, voi lo sapete che io lavoro da stamattina alle nove ininterrottamente fino a questo momento? Perché sei un po' avvilita, lo sapete, chi me l'ha detto che sono avvilita? Ce l'ha scritto qualcuno? Sì, sì, un po' avvilita, ma non è colpa mia? Dov'è scritto che sono un po' avvilita? Barbara Parucci Barbara mi conosce, Barbara, un po' avvilita sono, sì Ma perché? Perché sono stanca, voglio andarmene a letto, voglio andarmene a sparare Netflix per cinque giorni consecutivi, ho fino al 15 maggio una tornata di lavoro che voi non potete immaginare ma ve ne parlerò perché vi coinvolgerà questa tornata di lavoro, sono stanca, non ho avuto neanche il tempo di lavarmi i capelli e tirato sulla coda oggi per andare a scuola proprio il massimo del minimo, però nel frattempo siccome non voglio lasciare indietro i canali mi sto ammazzando perché devo stare seduta, oggi ho fatto gli ultimi due video per la Raffaello per il libro di storia dell'arte, è stata una bellissima emozione vedere il mio nome tra quello degli autori, però appunto la copia cartacea è già in promozione, in giro per le scuole e io ancora devo consegnare, sono ampliamente entro i termini di contratto, devo ancora consegnare gli ultimi due video e li ho fatti oggi, tra l'altro se c'è qualche insegnante tra voi, mi raccomando, vi consiglio il libro dove ci sono i miei contenuti multimediali e dove ho fatto la supervisione dei contenuti, di tutti i contenuti multimediali, quindi che si chiama non più viaggio nell'arte ma sono un genio, sono un genio, non lo so, te lo dico io, ora me lo ricordo, sono solo stanco, si chiama Spazio Arte di Raffaello Editori, è un bellissimo libro, a parte i miei contenuti digitali, è un bellissimo libro Spazio Arte, veramente completissimo di tutto e di più, veramente bellissimo, quindi ve lo consiglio anche se non siete insegnanti, anche se non avete bimbi alle scuole medie, ragazzi ragazzi si dice ragazzi alle scuole medie, se volete un libro facile per imparare la storia dell'arte e tutte le tecniche, quello è un bel libro, quindi consigliato indipendentemente dalla mia presenza, si trova in librerie, in librerie, in librerie, non ho scritto un libro, ma è un libro di testo per le scuole medie, si chiama Spazio Arte, edito da Raffaello Editori e io ho supervisionato tutti, no scusa grazie, non ti volevo mettere in sospeso, premuto per sbaglio grazie, supervisionato e contribuito anche per i contenuti multimediali, quindi un bel lungo lavoro e adesso nuovi progetti appaiono, si si può acquistare certo, certo che si può acquistare in libreria, tra i testi scolastici, ancora non è arrivato, a settembre arriverà, e poi i primi di settembre credo, forse anche fino agosto, e poi, fino agosto, a giugno, e poi nuovi, nuovi impegnativissimi, un impegnativissimo lavoro si affaccia all'orizzonte, e quindi, e di quello vi parlerò più avanti, medie, medie, scuole e secondarie, e di quello vi parlerò più avanti, ciao Maria Celeste, ciao Alice, e l'altro bimbo che non so come si chiama, Alice hai visto il tuo disegno in pole position sulla pagina di arte per te, e quindi, un lavoro bellissimo sta per affacciarsi, sfrego le mani, e ve ne parlerò presto, si consiglia lo spazio arte di Raffaele Editori, e quindi non ti trasferisci più, ah no, quello non lo so, per adesso no, anche perché Enzo deve finire quest'anno in quinta elementare, quindi per adesso no, ma dobbiamo finire delle cose, poi nel momento in cui andremo in vacanza, perché adesso finisco con la scuola, prima di Pasqua dovrei finire con la scuola, i progetti terminano, e quest'anno è stato bellissimo con la scuola, è stato un anno veramente, veramente bello, da tutti i punti di vista, mi sono trovata bene con tutte le colleghe, mi sono trovata bene con i bambini, è stato, stiamo facendo un lavoro mastodontico di riciclo e di riuso, ve lo farò vedere in un video, stiamo facendo un murales di 5 metri, tutto con materiale di riciclo e di riuso, intendendo per riciclo cose che hanno portato i bambini, bottiglie di plastica, tutti i scatoli dei panettoni, li ho fatto portare, dei cereali, i tappi, e poi tanto materiale di riuso, nel senso che abbiamo preso anche dei bicchieri di plastica, quelli che ancora si trovano nei negozi, li ho acquistati, quegli scarti, quei fondi di magazzino che ancora si riescono a trovare, per non farli finire nella spazzatura, no alla materna questo, per non farli finire nella spazzatura, perché se fossero rimasti nei negozi sarebbero stati acquistati, no, no, veramente io mi trovo spesso bene, non dico sempre, fino ad oggi devo dire, solamente ho un caso avuto di non trovarmi bene, ma quella signora è andata in pensione, ma è stata lei ad essere sgarbata con me, non io con lei, ma in generale, no sgarbata, non quello che dici tu, silenzio, ma in generale mi sono sempre trovata benissimo nelle scuole io, però quest'anno ho avuto il piacere di constatare che oltre ad un rapporto lavorativo, c'era anche un rapporto interpersonale con queste docenti della scuola in cui sono andata, perché io quest'anno, come sapete, ho patito tantissimo col mal di testa e come pativo qui con voi saltando qualche appuntamento del corso di disegno facendomi vedere così, ho patito anche con loro, solo con la differenza che a scuola con il mal di testa a pallettoni come l'ho avuto io non potevo andare e quindi slittavano gli appuntamenti perché io non ho un orario fisso, nel senso sì, do l'orario all'oro, ma io devo fare quel monte ore entro l'anno scolastico. Però, non mi interessa, tra un po' cominciamo, però concludo il discorso, in pratica tutte queste belle signore mi hanno aiutata non facendomi pesare le mie piccole defiance, quando avevo mal di testa erano comprensivissime, non è sempre così negli ambienti di lavoro, molte persone, specialmente coloro che non soffrono di mal di testa, potrebbero non capire e quindi annoiarsi, invece sono stata proprio bene, mi dispiace un po' finire i progetti quest'anno, però sì che gli interessa, però va bene, è bello finire anche per dare una conclusione ai bimbi, poi ci sono bimbi troppo simpatici, quest'anno ce ne sono veramente una carrellata, veramente, veramente, fino a oggi ho avuto proprio un momento di felicità, un bambino che non voleva uscire dalla classe, che piangeva come un pazzo, finalmente, finalmente, di tre anni, amore, certo, si vedeva Gabriele, figuratevi che paura che si prendano quei bambini, finalmente, oggi è venuto, ha fatto tutto, c'era la sua maestra, però non piangeva, è venuto, ha lavorato, l'ho fatto lavorare tantissimo, bellino, bellino amore, un amore, a me piacciono i bambini, quindi sono ben contenta di questo lavoro che mi gratifica, bene, ora passiamo all'altro lavoro che mi gratifica, quello che faccio con voi, e niente, quindi, sia insegnanti che bambini sono splendidi, quindi io, anche gli operatori in questa scuola sono veramente uno meglio dell'altro, quindi, se volete, le scuole comunali a Catania funzionano molto, detto, le scuole materne comunali funzionano veramente molto bene, una bella realtà. Se volete iscrivervi, anche voi. Potrà, sì, la scuola materna comunale iscrivetevi in massa. Bene, bene, adesso il bando alle ciance, passiamo a noi. Passiamo a noi, che dirvi, io non ho nulla da dirvi stasera, ragazzi, il terzo anno, il mal di testa a posto, non ne ho, si vede, credo. Ragazzi, non ho nulla da dirvi, perché il terzo anno... Non ci credo. Eh? Cosa? Non hai nulla da dire. Non ho nulla da dire, è bravissimo. Siete molto completi, molto bravi, anche quando variate i disegni, li variate bene, nel senso mantenete l'armonia, quindi non ho nulla da segnalare. Tranne se avete, volete qualche risposta su qualche domanda che avete da farmi, io sono qua a vostra disposizione. Devo dire, sui disegni postati, bellissimi quasi tutti, e quelli che non erano bellissimi, semplicemente perché erano incompleti. Ecco, quello è il rami di ulivo, hai ragione, per rendere più reali i rami di ulivo, devi partire da un chiaroscuro a grafite, non devi dare degli andamenti rigidi, tu hai fatto due rametti dritti, dritti dietro al cesto, così, avevano più l'idea del pungitopo, tanto fossero rigidi, e invece devi dare appunto un andamento fluente, fluido, morbido, e colorare proprio in maniera molto, molto delicata, non forzosamente spinta, come hai fatto su quel disegno. Ma per il resto, appunto, tranne questo, che mi sembrava più una variante di gusto, che non una difficoltà nel disegnare, sinceramente, e a parte questo, chiaroscuro a grafite e poi pastelli sopra, puoi fare entrambi. Io ti consiglio di fare il chiaroscuro sempre utilizzando la matita nera, quella dei colori, e poi magari utilizzando un blender, o andando con gradazioni leggere di matita, intensificare o snellire appunto il chiaroscuro, tutto qua, semplicemente. E poi a tenerti alle forme. Nella riproduzione botanica, perché quando soffio via si spegne tantissimo il colore? Che cosa? Non ho capito. Quando soffio via il pastello, è perché togli tutte le polveri, anche quando spruzzi il fissativo. Vi stavo dicendo, nella botanica è molto importante la fedeltà delle forme, perché è quella forma che dà quella pianta. E quindi non si può variare più di tanto. Lì l'osservazione la fa da padrone. O quantomeno, se non è l'osservazione, la conoscenza della forma delle foglie. Quindi i ragazzi del terzo anno sono indubbiamente molto bravi. Motivo per cui è giunto il momento di alzare l'asticella. Ed ecco che qui Gabriele posta il video solo nell'album, non lo ricondividere. La foto. La foto, scusate. Dove la devo postare solo nell'album? Castellatura, castellatura. Cos'è? Avrò sbagliato. Natalina, siccome io ho detto i commenti al telefono, avrà capito male. Dimmi tutto il commento, così, forse c'è esellatura, forse, vediamo. Che cosa vuoi? Come si schiariscono i toni? Allora, i toni delle matite si schiariscono innanzitutto non immettendo il nero, quindi tenendo il tono vivido. E poi, miscelando il colore vivido con una tinta meno forte. Quindi, per esempio, se dovete avere un rosso allegro, mettete un bel rosso e poi, magari, sotto, prima del rosso, mettete una base che sia un arancione o, secondo un rosso morbido, un rosa, un fucsia o per un rosso fragola. Insomma, in questo modo. In generale, quando intendo non scurire i toni, di solito intendo non gravarli troppo di un chiaroscuro nero. Vabbè, intanto Gabriele ha postato il disegno. Lo trovate nell'album di disegno e dei compiti di arte per te. Mi raccomando, postatela sotto come commento alla foto. Molti di voi, in questo momento, non lo vedranno se mi seguite da tab, da cellulare o da tablet, ma poi vi apparirà in un secondo momento. Ma un po', ma dopo un po', il pastello assorbiva meno. Ma tu lo fissavi tra una parte e l'altra. Ah, dovevo usare i toni scuri alle uova? Ma dovevo... Ah? Ma... dovevo usare il nero? Ehm... No. Per schiarire... Ragazzi, un attimo. Di quale... Allora, per schiarire dovete usare dei toni più chiari sotto. Quindi, nel caso di un rosso vivido, un arancione, un rosso per scurire. Io di solito coi pastelli, poi dipende da come voi lavorate coi pastelli. Io, i pastelli, nei pastelli vado dallo scuro al chiaro. Ok? Quindi, se avessi dovuto fare io il compito, avrei messo la base col colore portante, ma più scuro. E poi, su questa, andare, 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 fino strato su strato fissare, aggiungere strati sempre più chiari, sempre più chiari. Per pastellare si aggiunge il bianco, per vivacizzare, per arrivare a un rosso, si mettono sotto degli aranci, dei fucsia, dei rosa. A seconda, fissando tra una mano e l'altra, la base sotto diventerà sempre più spessa e sempre più compatta. Esatto, come il mio melograno. C'è il video su Arte per te, su come usare i pastelli. andatela a guardare, c'è un melograno su tavoletta di legno e lì vedrete come si va dallo scuro al chiaro. Ora invece però, col nuovo compito, ritorniamo alle matite. Eh, se non fissi nulla è difficile, però Erika, mi pare che il tuo fosse buono. Però è difficile gestire i pastelli senza fissare. Allora, Gabriele, Gitto, non hai mai fissato, Marzia, difficile, difficile gestire i pastelli senza mai fissare. Bisogna subito imbroccare il tono. Io il fissativo l'ho portato di là, sia uso la lacca Splendor. La lacca Splendor, la più scrausa dell'universo. Però è molto buona anche perché col tempo non vira in colore. I pori aperti del foglio, il fissativo. Ma i pastelli sono gessetti colorati? No, sono pastelli. C'è il video, c'è il video sui pastelli e sulla differenza dei colori. Anche tu l'acca Splendor è la migliore. Dovrebbero venderla come fissativo per pastelli, non più come l'acca. No, la Splendor no. Le altre sì, ma la Splendor no. e quindi nel pastello io vado dall'oscuro al chiaro. Poi come vedete quando ho fissato il compito da Carpotello è venuto molto più difficile. Il pastello è diverso del Carpotello. Lascia molta più materia. Molta più materia. Allora, l'avete vista la foto del nuovo disegno? Una bella africana. La penna gel si può usare? Sì. La penna gel si può usare e le matite. Ok? Matite colorate usate il blender. Quindi vi consiglio il blender della marca. Non è difficilissimo. Non è difficilissimo. Non è difficilissimo e avete più di un mese perché è da consegnare il 3 maggio. Quindi avete tantissimo tempo cominciare a fare perline. Naturalmente ricordatevi che preferisco un pezzo piccolo completo che è tutto abbozzato. Ok? Cosa vuoi consigliato? Cosa vuoi consigliato? Margherita? Sì. Bello. Cosa devo consigliarti? Grazie. Proverò. I pastelli sono divertenti. Certo che lo sono. Che cos'è? Una bella africana. Quale marca di blender? Non è la marca di blender. È la mestica. Ci sono blender ad olio e blender a cera. Portate le vostre matite quelle che utilizzate in cartoleria e provate i blender che hanno. Non tutti funzioneranno. se la vostra matita è olio nella mestica funzioneranno i blender ad olio se la vostra matita è a cera funzioneranno i blender a cera. Io vi consiglio di utilizzare il blender della marca delle vostre matite. Tutte le marche di matita hanno un blender. Avrebbe bisogno di una leggera schiaritura e pastellatura? Sì. Il lovetto azzurro avrebbe bisogno di un po' di bianco tutto qua. No. La parte difficile sono le sopracciglia secondo me. Però sembra davvero difficile ma il terzo anno per il terzo anno non è difficile. Non l'avrei assegnato altrimenti non voglio. Cos'è il blender? Daniela c'è il video su arte per te vi spiego tutto sul blender andatevelo a vedere. Ragazzi il corso di disegno l'olio johnson non è un blender l'olio johnson è un lucidante è diverso ed è molto difficile da gestire l'olio johnson se te la senti puoi provare. però è bagnato non puoi riandarci su è molto difficile da da gestire l'olio johnson lo puoi dare alla fine sopra il blender una volta che sei sicura del tuo operato. Anche la stabile o il blender boh credo di sì per le matite non per le acquerellabili le acquerellabili non sono blendizzabili perché appunto non sono né a cera né a olio ma sono idrosolubili quindi in quel caso io parlo di matite matite comuni io uso quando uso il blender uso le polychromos sì ce l'hanno quasi tutte le marche anzi no uso le prisma color le prisma le prisma dove hai preso la foto su pixabye ho cercato tribù e dopo un po' mi è uscito lei volevo farvi qualcosa di etnico anzi volevo farvi qualcosa di molto rugoso poi ho detto no va quindi dobbiamo avere matite non acquerellabili potete allora facciamo così per chi ha le matite acquerellabili ora lo scrivo potete acquerellare lì dove vi serve quindi prima date bene i colori e poi acquerellate dove vi serve quella schiettezza e quella brillantezza di tono tipo nelle perline potete acquerellare perché dopo tutto l'acquerellizzazione è come passare il blender però mi cambia un po' e state molto attenti perché se caricate troppo il disegno cioè se lo chiudete se colorate come se fosse finito no con il blender le stabilo acqua color no le stabilo normali tipo queste sì e ci sarà pure adesso vi dico se queste vanno col blender tipo prisma color un attimo che le apro queste matite sono fighissime sono matite fsc quindi sono devono essere spettacolari e poi sono eco friendly un attimo vedo se le matite stabilo normali sono blendizzabili avevo anche un blender della lira però non so più dove devo trovarlo un attimo provo le acqua color già lo so che non non blendizzano le brisma e le garandash sì di sicuro certo le matite di alto livello ce le hanno tutti i blender ovviamente ovviamente la lira ce l'ha pure però dovete usare le matite lira perché mi pare che quello della lira sia ad olio ecco qua vediamo eh da 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 sì anche le stabilo riescono però non benissimo secondo me sono ad olio le stabilo perché guardate blendizza ma non in maniera full micotone io ho quello della brisma color anch'io è ottimo però devi trovare delle matite che si accordino messi cacera ok 57 vergogna allora un attimo che poso i colori certo se voi che disegnate così bene non lo dico mai di farvi un regalo ma per Pasqua voi che disegnate così bene queste qua accattatevi io non ci becco niente ragazzi vi ho sempre consigliato le stabili acqua color io le uso spessissimo spessissimo perché mi piacciono tantissimo ve l'ho sempre detto però ecco ve le ho fatte comprare al primo anno ma ora che è da tre anni che disegnate che siete diventati bravissime queste no queste non le trovo dure io trovo dure le carandache le carandache le trovo veramente dure queste invece le trovo belle molto molto belle le premiere belle belle le polychromos penso che siano anche buone non le ho però io le ho prese tutte no io no prismacolor queste qua le premiere sono meravigliose tra l'altro queste me le regalate uno di voi ci potete credere ad un incontro ora però non mi ricordo non mi ricordo più chi bruttissima questa cosa su aliexpress davvero ma no no penso siano queste romina io le ho prese tutte su aliexpress ah tu le hai prese tutte su aliexpress no no romina ha bene disegna quindi poi ragazzi certo la matita fa fino a un certo punto poi il tutto lo fate voi comunque io mi trovo molto bene ce ne sono di un'infinità di latte sono bellissime veramente io ho anche le faber castel che sono molto belle però non mi ricordo penso che siano ad olio quelle come blendizzazione fatevele un regalo avete la capacità di usare belle matite quindi usatele fatevele un regalo gratificatevi siete stati bravi siete stati molto molto bravi e potete potete farlo no le prismacolor difficili da temperare affatto hanno un fusto leggermente più grossetto ma una volta che date la forma del temperino no 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 non è vero che sono difficili da temperare no non per quanto mi riguarda io le trovo meravigliose a me piacciono le prismacolor non non vi nego che mi piacciono moltissimo odio le carandash non so perché me le trovo dure secche mi fanno smuore i nervi prima di arrivare alla tonalità che voglio io mi stanco ecco proprio mi stanco a passare il colore quindi non non mi piacciono con la mia mano però le ho viste vibrare e librarsi teneramente in mani altrui quindi è tutto molto soggettivo dovreste provarle ok quindi a proposito ho cambiato le date di alcune consegne il primo anno è rimasto con la stessa data ma il secondo e il terzo anno sì c'è ma il secondo e il terzo anno ho cambiato la data di consegna perché è Pasqua c'è Pasqua e non vi avevo dato le vacanze non vi avevo dato la settimanella di pausa quindi hai fatto bene grazie quindi andate se siete del secondo o terzo anno andate ad attenzionare bene le didascalie perché vi ho posticipato di una settimana la consegna perché ragazzi Pasqua ce la prendiamo anche io non voglio passarla a correggere compiti voglio dedicarmi ad Enzo siamo in vacanza quindi magari usciamo torniamo tardi non posso stare anche a casa e anche per voi insomma una piccola pausa vi fa solo che bene però una piccola pausa non significa che dobbiate fare i compiti il giorno prima ok comunque me l'ero dimenticato che fosse Pasqua questo fatto che Pasqua cambia ogni anno il 5 il 5 e c'è la diretta ma il 3 si consegna non è il 3 martedì sì ok ci siamo mi volete dire qualcos'altro oh brava Tina consegna il 5 perché consegna il 5 quando è martedì ok 3 3 maggio 3 maggio è martedì il giovedì c'è la diretta il 5 c'è la diretta è giovedì ma la consegna è il 3 maggio che è martedì come sempre no aprile maggio maggio state guardando aprile ragazze ma di che ragazzi a me fa solo piacere allora non mi ricordo che ho spostato la prossima settimana il corso c'è scritto il 5 aprile sulle uova e allora si consegna allora dovete consegnare quando è scritto io ho spostato i compiti la settimana prossima chi c'è chi consegna la settimana prossima consegna il secondo quindi ho spostato aspettate ho sbagliato ho spostato i compiti del primo e del quarto e senior e poi ci siete voi allora per il secondo anno rimane tutto invariato perché siete prima di Pasqua e quindi consegnate lunedì prossimo martedì prossimo come sempre secondo anno scusatemi mentre il primo anno consegna una settimana dopo scusate scusate va bene comunque guardate le didascalie fanno fede quelle guardate la didascalia del vostro compito se non è cambiata consegnate esempi di tecniche miste da mischiare allora esempi di tecniche miste tutte le tecniche miste penna acquarello matite colorate e acrilico oppure penna matite colorate perché l'acrilico aspettate perché l'acrilico in questo caso lo intendo per i bianchi per intenderci per quelle macchiette di colore oppure quante matite ci sono in una confezione di prisma color ci sono di tutti di tutte le pezzature ce ne sono anche di 72 dipende quanto vuoi spendere nella mia ce ne sono 48 tecniche miste per esempio potresti usare pennarelli molto presto uscirà un video che vi ho fatto ieri ho girato ieri l'ho fatto con ho disegnato con gli evidenziatori insomma tutto quello che è disegno potete miscelarlo quindi evidenziatore matita pennarello penna penna e pennarello pennarelli ce ne sono 12 milioni quindi andate a cercare quello che vi piace di più c'è il pennarello a pennello c'è il pennarello a punta flessibile c'è il pennarello classico il pennarello acquarellabile c'è l'acquarellabile e pastello vi ricordo che i pastelli sono acquarellabili anche tecniche miste ce ne sono quante ne volete quando vi parlo di acquarellatura nel disegno tenetela presente solamente per dare le luci quindi potete tranquillamente miscelarle tutte le tecniche da disegno e se usate una gouache o un acrilico per portare fuori le luci usatelo in maniera lineare o macchiata come fareste con una matita l'importante è che non dipingete con vorrei partecipare al primo anno del corso devi aspettare settembre Tiziana ancora il corso è chiuso per adesso il foglio il foglio mixed media può andare ho letto ruvido grana finissima si può andare si il il mixed media è uno dei migliori fogli versatilissimo c'è carta da zucchero non riesco a visualizzare la foto del primo anno sono le uova nella ciotolina no si qualcuno lo può mandare il disegno la foto a carta da zucchero noi senior quarto il 26 aprile si vi ho spostati di uno tipo di carta per il nuovo disegno del terzo una ruvida carta finissima poi naturalmente dovete sceglierla voi la carta in mixed media va bene come carta una qualunque ruvida fine meno male ho mixed media fabriano c'è un video su come acquarellare i pastelli si mi parli di si mi parli di si che dice patrizia rossella si patrizia il 26 si c'è un video dovete andarvi a vedere tutti i video del corso di disegno ragazzi perché mi manca questa questa conoscenza ok che è importante per un corso di disegno la dico cose che vi possono veramente servire e allora ragazzi se non abbiamo più niente da dire non è indicata la carta liscia gli fa venire tutto molto più difficile specialmente la pelle però se avete solo quella no quale buonanotte ancora ho due quattro sei sette otto uova da fare la foto la vedo e ho fatto il disegno ma non posso caricare il mio lavoro sull'album benissimo allora chiedi a un tuo collega di caricarlo al posto tuo e di scrivere disegno di come ha fatto per molti anni qualcun altro quindi molto spesso capita questa cosa penso dipenda dalle vostre impostazioni però puoi chiedere a qualcuno di manda il disegno tramite post a qualcuno dei tuoi colleghi e chiedi la cortesia se non riusci tramite telefono prova tramite pc eh tramite fisso aggiornate l'app ci sono tante cose di nulla e allora questa avvilita ombretta continua a lavorare voi andate a vedervi un po' di tv come si miscela il colore della pelle mi fai vedere la foto Gabri si allora il colore della pelle non è unico ci sono dei punti in cui c'è anche molto bianco in generale facciamo la parte media del Bruno c'è del terra di siena bruciato bruciata del Bruno van dick me lo clicchi che si è oscurato del rosso dell'ocra dovete guardare fisso il colore per capire di cosa è composto in alcune zone anche un po' di blu perché perché vedo del viola in sotto fondo quindi devi e poi cambia cambia in alcune zone c'è più giallo verso il naso in alcune zone c'è più nero cambia costantemente ma la base sono quei quattro colori che ti ho dato all'inizio va bene e allora ragazzi complimenti terzo anno mi dispiace non dirvi tanto ma non ho proprio cosa dirvi cosa vi dico siete stati bravissimi sarebbe giusto sottolineature sciocche quindi bravi 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 ci vediamo la settimana prossima con il secondo anno poi una settimana di pausa e poi riprendiamo va bene e allora un bacio domani nuovo video su arte per te e ci vediamo quindi domani sul canale ho posticipato la pubblicazione dei video su arte per te adesso va nel tardo pomeriggio dalle 5 e mezza in poi quindi state attenti un grande grande bacio grazie per gli apprezzamenti per il cestino di ovetti che ho visto che vi è piaciuto tantissimo grazie 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 e anche per le uova decorate mi ha fatto un sacco piacere che vi siano piaciuti tanto gli ultimi due video quindi Giorgia sei la ragazza di mio figlio ciao tesoro vedete che suocera moderna che sono conosco le ragazze di mio figlio online e allora tutti qua sono ciao Enzo va bene è giunto il momento di chiudere così avete saputo che Enzo ha la ragazza siete contenti siete contenti sicuramente meno di me vi mando un gran ciao Giorgia mi raccomando vi mando un grande bacio noi ci vediamo domani per un nuovo video un bacione a domani ciao ciao